Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anzi cosa dico, in questo nuovo format. Ogni settimana io ed il mio team raccoglieremo le succose novità del mondo elettrico, carmaker, batterie, ecobonus, rumors, leak, nuove uscite, tecnologia e tutto quello che riterremo interessante. Ve le riassumerò in un video che andrà in onda ogni domenica mattina e nella descrizione del video troverete tutti i link per andare ad approfondire gli argomenti da voi preferiti. Ma cominciamo subito perché oggi c'è tanta tanta roba interessante di cui discutere. Partiamo dagli incentivi per le auto elettriche, ibride e plug-in perché sono in arrivo altri soldi e non pochi, si parla di 56 milioni di euro. Il governo infatti aveva paura che i fondi si potessero esaurire poco dopo questa estate, così ha deciso di riempire nuovamente le casse con altri soldi. I fondi aggiuntivi sono disponibili sul sito ecobonus.mise.gov.it che è la piattaforma su cui i venditori prenotano l'incentivo per chi compra un veicolo a basse emissioni, che sono moto, scooter di categoria L e auto di categoria M1. 56 milioni confluiranno nel fondo ecobonus M1 2021 per la fascia di emissione che va da 0 a 60 grammi al chilometro di CO2, in cui rientrano in pratica le elettriche e le plug-in. Altri 13 milioni invece nel fondo di legge di bilancio 2021 M1 per la fascia di emissione più alta che va da 61 a 135 grammi al chilometro di emissioni di CO2. Ma le buone notizie non finiscono qui. Se siete residenti in Veneto, la regione ha appena stanziato altri soldi, da 3.500 euro fino a 8.000 per un totale di 5 milioni di euro. E anche la regione Lombardia ha da poco dichiarato che ristanzierà altri soldi, sempre per l'acquisto di auto a basse emissioni e sempre quest'anno, il 2021. Ricordate che l'ultima volta tutti i soldi sono spariti in un giorno e mezzo? Bene, le persone che hanno partecipato a quel bando e sono rimaste con le pive nel sacco saranno richiamate e avranno quindi diritto di prelazione su questi soldi. Ma la gente sta comprando le auto elettriche oppure è tutta una farsa, è una bolla, è una finta, è un che ne so, boh? Beh, i numeri ragazzi parlano chiaro, l'elettrico è il futuro e non ci piove, ormai la strada è tracciata. Alla fine del mese di marzo, infatti, le autorità hanno fatto due conti sulle vendite, non solo delle elettriche, ma di tutte le auto vendute in Europa. Beh, il risultato è stato che Tesla Model 3 è stata la berlina più venduta d'Europa, battendo anche diesel e benzina e piazzandosi al quarto posto della classifica di tutte le auto. Al primo posto troviamo Volkswagen Golf con 26.265 unità, seguita da Peugeot 208 con 25.429 unità terza, Opel Corsa con 24.540 unità e Tesla Model 3, appunto, con 23.616 unità. Numeri, ragazzi, che fanno tremare tutti i carmaker è decisamente innegabile, i numeri parlano da soli. Bene, ma non benissimo invece per le alte elettriche. Hyundai Kona, ad esempio, si ferma a sole 5.650 auto, subito dietro Renault Zoe con 5.373 esemplari e Volkswagen ID.3 al quarto posto con 4.874 vetture. Molto vicina poi la ID.4 con 4.766 vetture. Chiudono la top 10 poi Nissan Leaf con 4.503 vetture, la IAP con 4.159, da poco rientrata al listino tra l'altro, la Kia e Niro con 4.037, Peugeot 208 con 4.024 e fanalino di coda la torinese Fiat 500e con 3.415 unità. Beh dai, comunque c'è un sacco di gente che ha i soldi per comprare queste auto, eh? Ma invece in Italia come va? Beh, sembra che l'italiano ami le auto elettriche e ne sono state matricolate 13.139 nel primo trimestre. Una quota su mercato di circa il 3% ed hanno superato le auto a metano. Attestateci sul 2.6%. Sì, è vero, sono numeri molto piccoli ma in forte crescita. Se pensiamo che nel 2019, quando ho comprato io l'auto elettrica, le auto elettriche vendute nello stesso periodo erano solo lo 0,2%. Cioè adesso 3%. La 500 passa dal decimo posto al primo posto confermando quanto piace a noi italiani. Ne sono state matricolate nel primo trimestre del 2021 ben 2058. Smart EQ4Q, 1723 in matricolazioni. Tesla Model 3, terza, con 1684 in matricolazioni. Renault Zoe, che vi ricordo di essere stata l'elettrica anche più venduta nel 2020 in Italia, ha ottenuto 1.271 in matricolazioni, seguita a ruota dalla piccola Twingo elettrica con 1.254 vendite. Sesta, Peugeot E208 con 758 vendite. E2008 segue a ruota, poi Opel Corsa, Hyundai Kona e Volkswagen ID.3, chiude la classifica. Come dicevo sono ancora numeri piccoli ma se continuo così ne vedremo veramente delle belle. Parliamo ora di un'auto che non è ancora uscita ma che sta facendo parlare tanto di sé, Dacia Spring. Sì, ne parliamo perché sarà l'auto elettrica più economica del mercato europeo e molto probabilmente darà una scossa molto importante al mondo dell'elettrico. Costerà meno di 20.000 euro ma se ci andate ad aggiungere l'eco bonus si arriva a 9.460 ed in Veneto, come dicevo prima, la potrete acquistare a meno di 2.000 euro. In pratica costerà meno di una bicicletta elettrica. Siamo attorno ai 230 km streamati con ciclo VLTP. Avrà una potenza più o meno di 33 kW, quindi circa 44 cavalli ed una coppia di 125 Nm. Quindi non è una sportiva. Per niente. Da 0 a 100 in... domani. Ma non è questo l'importante perché si tratta chiaramente di un veicolo destinato alla città, ma le dimensioni sono quelle di un piccolo SUV e consente anche a 4 persone di viaggiare decisamente comodi. Chissà tra qualche mese dove la troveremo nella classifica. Continuiamo con le nostre news parlando questa volta di un'azienda che produce tra le altre cose gli smartphone. Stiamo parlando di Huawei che sembra essere in trattative per assumere il controllo di una unità di produzione di veicoli elettrici di una piccola casa automobilistica cinese. Le motivazioni? Beh, il segmento degli smartphone in Europa sta diminuendo la sua incisività ed il mercato domestico è comunque stabile. Dunque, per Huawei è il momento di diversificare e attraverso questa acquisizione Huawei si prepara a superare il mero sviluppo dei sistemi operativi per auto e punta ad avere una presenza end-to-end nel settore anche dei veicoli elettrici. Adesso invece parliamo di batterie e lo facciamo cominciando da Porsche che costruirà una fabbrica di batterie nella città tedesca di Tübingen. 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 Comunque, quella che sta a pochi chilometri da Stoccarda. Attualmente le case automobilistiche europee si affidano principalmente a fornitori cinesi di batterie ma come è facile intuire da questa mossa stanno cercando di ridurre la loro dipendenza dall'estero. Tutto questo viene chiaramente fatto anche per aumentare la produzione dei veicoli a zero emissioni necessaria per soddisfare le sempre più severe norme ambientali dettate dall'Unione Europea. Porsche inoltre acquisirà batterie per le sue EV da Volkswagen che anch'essa prevede di costruire diversi impianti di batteria in tutta Europa e di espandere globalmente le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. E a proposito di Volkswagen è di pochi giorni fa la notizia che finanzierà QuantumScape una start-up impegnata nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Questa azienda mira infatti a commercializzare i suoi nuovi accumulatori nel 2024. Potrebbe però arrivare sul mercato in leggero ritardo. Staremo a vedere. E non solo in Europa, anche oltreoceano si stanno dando da fare nello sviluppo delle batterie. Ford, per esempio, ha annunciato la creazione in Michigan di Ford YonPak, un nuovo centro di ricerca e sviluppo sulle batterie con un team dedicato che sviluppirà e produrrà anche celle e pacchi batterie, sia al litio che allo stato solido. Questo laboratorio di quasi 19.000 m2 di superficie sarà uno dei più grandi al mondo ed avrà al suo interno apparecchiature di ultima generazione per la progettazione e la produzione di elettrodi, celle e pacchi batterie e utilizzerà una tecnologia all'avanguardia per sperimentare nuove tecniche di produzione che consentiranno a Ford di realizzare rapidamente progetti avanzati di celle e pacchi batterie prodotti con materiali innovativi. Il team di laboratorio potrà replicare le prestazioni delle batterie prodotte su vasta scala in condizioni meteorologiche estreme e riprodurre i casi segnalati degli automobilisti, accelerando così l'implementazione delle innovazioni sui veicoli futuri. E Ford non si ferma alla mera produzione di batterie, ha infatti annunciato il suo impegno di investire almeno 22 miliardi di dollari entro il 2025 per produrre veicoli connessi ed elettrificati a partire dalle versioni EV dei suoi modelli più noti. In Nord America la Ford Mustang Mach-E infatti ha già riscontrato un grande successo nelle ventite. Inoltre il Ford Transit, completamente elettrico, sarà in vendita alla fine di quest'anno e l'F150, completamente elettrico, arriverà entro la metà del 2022. Beh, dei passi da gigante, anche per Ford, insomma. Pensate che si sta preparando anche per approdare in Cina e per finire ha aperto una collaborazione anche con BMW, investendo insieme nelle batterie allo stato solido tramite un finanziamento cospicuo ad una start-up, la Solid Power. Sul piatto ci sono circa 108 milioni di euro. Una cosetta da niente. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e spero di aver fatto bene ad introdurre questo nuovo format in Steel News. Mi raccomando, continuate a supportarmi iscrivendovi al canale e accendendo la campanellina, lasciando un like ed anche un commento. Noi ci vediamo domenica prossima con le news della settimana prossima e ogni martedì e venerdì con un nuovo video. Se poi volete approfondire ci sono tutti i link in descrizione. Se avete qualche domanda scrivetela qui sotto oppure potremo parlarne questa sera alle 21 in live su tutti i miei social. Ciao, alla prossima!